Bene, ora interviene nel nostro dibattito la nostra Presidente dell'Assemblea e Vicepresidente Michela Bolondi per un suo contributo che noi gli abbiamo chiesto e che apprezziamo molto. Poi continuiamo con i video. Prego Michela. Io vi chiedo scusa ma dovrò leggere il mio intervento perché l'emozione potrebbe giocarmi i brutti scherzi. Il 2020 è stato un anno estremamente complesso e disgraziato, un anno durante il quale tutti noi siamo stati chiamati a mettere a disposizione la nostra professionalità e il nostro senso di responsabilità per permettere alle cooperative di continuare nelle proprie attività e costruire nuove prospettive per il futuro. Nonostante il contesto attuale sia ancora con confini incerti ed emergano tensioni, la cooperazione è stata capace di tenere le redini della situazione, di non farsi travolgere da essa e rimanere focalizzata sulle necessità prioritarie, sulle risoluzioni dei problemi e sugli intenti. Trovare la modalità di creare sinergie forti e solide tra chi ha lavorato direttamente nei servizi e gli altri soci lavoratori non è stato per nulla semplice, ma ci siamo riusciti e lo abbiamo fatto tutti insieme, anche avvalendoci dell'ACI, che è diventato per le cooperative sociali lo strumento attraverso il quale abbiamo più volte interagito con la nostra regione. Si è trattato di un percorso difficile, costellato di momenti di forte scoramento, nel corso del quale la nostra capacità di confrontarci in modo costruttivo ci ha permesso di rimanere coesi nel raggiungimento di obiettivi primari, quali il mantenimento della salute dei lavoratori, delle persone che abitano all'interno delle nostre strutture e del lavoro stesso. Come già ha espresso il nostro Presidente Giovanni Monti, dove c'è la cooperazione, dove essa è radicata, la reazione e la tenuta della coesione sociale è stata forte. La cooperazione c'è, si è consolidata nella storia delle nostre comunità e ne costituisce parte integrante. Basti pensare all'azione importante che la cooperazione di abitazione sta portando avanti in tutti questi anni sui territori, al fine di garantire il diritto all'abitazione a molti soci e oggi a ragionare su nuove prospettive con il co-housing e non solo. Attraverso l'esperienza pregressa abbiamo acquisito maggiore consapevolezza e una sempre più significativa capacità di conservare fermezza e lucidità, così da poter affrontare con decisione non solo il presente ma anche il futuro, riprendendo in mano i progetti che abbiamo dovuto temporaneamente abbandonare per far fronte alla contingenza e andando a cercare nuove opportunità. Soffermandomi su un pensiero indirizzato al domani vedo una cooperazione che nonostante gli sforzi in mani, la drammaticità di alcune situazioni, il calo di fatturato, la cassa integrazione e la FIS, la perdita di fette importanti di mercato e la chiusura dei bilanci, che con enormi fatiche chiuderemo e nessuno ripianerà, a ben chiare le prospettive per lo sviluppo, grazie alla forza progettuale che è riuscita e riuscirà a mettere in campo e alla capacità imprenditoriale che la caratterizza. Le strategie vedono un grandissimo lavoro sia sul piano organizzativo sia su quello dell'adeguamento degli strumenti, anche attraverso l'innovazione tecnologica, al fine di garantire quello che è il suo obiettivo principale, lo scopo mutualistico, ovvero creare occupazione attraverso l'aumento di quella marginalità che permette di investire su risorse per lo sviluppo e il miglioramento delle politiche retributive, perché noi siamo parte di un sistema di welfare di questa regione e occorre con forza lavorare su chi ha privilegi e chi non li ha. L'interpretazione che la cooperazione, e nello specifico quella sociale, sta cercando di portare avanti è quella di una visione duratura, capace di far esprimere maggiormente le competenze e le professionalità che possa permettere lo sviluppo della cooperativa e le conseguenti ricadute nelle comunità in cui opera. Questa pandemia ha fatto emergere la necessità già evidenziata da noi cooperativi sociali di ragionare sui bisogni espressi dalle comunità in maniera nuova, nello specifico mi riferisco per esempio alla popolazione anziana, poiché sarà sempre più consistente la richiesta di innovare, di modificare e rendere più flessibile la risposta. A fronte di un aumento dei bisogni, vi è una diversificazione importante delle esigenze che devono essere intercettate per fornire soluzioni mirate favorendo al contempo un efficientamento delle risorse impiegate, abbattendo i privilegi e non a scapito di alcuni soggetti che oggi sono importanti come le fondamenta di una casa. Analizzando i dati sull'andamento demografico italiano risulta indispensabile mettere in campo nuove politiche per l'infanzia e continuare a pensare ai servizi 06. La cooperazione c'è, come parte attiva di un progetto più ampio, come partner fondamentale di una regione, la nostra, che può vantare primati sia a livello nazionale e non solo. Vi è però l'urgenza di creare le condizioni donne per favorire la crescita del nostro Paese evitandone l'implosione. Proprio in questo periodo le scuole, gli studenti, i nostri figli sono sottoposti a un pesantissimo tributo che rischia di compromettere quel bene essenziale e prezioso che è l'istruzione, la cultura, lo sviluppo delle capacità critiche. Sarà un nostro impegno quello di investire nella formazione e nell'educazione, investendo e rilanciando la nostra presenza, sostegno e difesa di questo bene prezioso. Mi auguro che l'Italia colga questa occasione, che la nostra regione se ne faccia promotrice, per ripensare alla scuola, nonostante questo terribile intoppo generato dalla crisi di governo, proponendo modelli nuovi più vicini alle esigenze di sviluppo del mondo del lavoro e dell'economia, come ad esempio sta provando a fare la mia cooperativa, con un percorso innovativo della scuola superiore che ha dato vita nella città di Parma a liceo STEM. Auspico che ci sia la ripresa in un progetto forte che affronti con maggiore attenzione tutte le tematiche legate agli adolescenti, che troppo spesso finiscono alla ribalta solo dai mezzi dell'informazione, solo sulla devianza. Ma a quel punto è troppo tardi e la comunità ha perso. E soprattutto spero che diventi sempre più concreto un pensiero sui giovani. Il nostro Paese ha bisogno di coltivare e prendersi maggiormente cura di essi. Sono veramente il nostro futuro. Fanno parte, se non li perdiamo, di quella popolazione attiva che garantisce attraverso il proprio lavoro l'universalità di accesso ai servizi e che permettono di continuare a dare opportunità anche lavorative alle persone con disabilità fisica e psichica. Sono nata in una regione dove l'attenzione alle future generazioni si manifesta attraverso i provvedimenti normativi che adotta, vedi l'intervento ad esempio sul consumo del suolo che ha citato prima il nostro Presidente della Regione. In una regione che ha come il Paese una situazione idrogeologica disastrata. Sono nata in una regione che riesce a produrre il patto per il lavoro e il clima, in una visione di futuro concreta così come lo sono le cooperative. Come Presidente di una cooperativa sociale però vorrei con forza un vero confronto alla pari, più proficuo e una coprogettazione reale con la pubblica amministrazione. Così come recita l'articolo 118 della Costituzione italiana che parla di sussidiarietà. Per impedire anche infiltrazioni legate all'illegalità e mi riferisco, come citava il nostro Presidente Giovanni Mondi, ai bandi al massimo ribasso, dove come base d'asta non vengono presi come punti di riferimento i contratti collettivi nazionali, che noi tutti cerchiamo faticosamente di applicare e che in questo particolare momento rischiano di consegnare fette di mercato e di territori alla criminalità organizzata, contro la quale noi come cooperatori e tutta la società civile devono mettere in atto tutti gli sforzi possibili per arginarla. Care cooperatrice e cari cooperatori, la nostra Assemblea regionale vuole mandare un messaggio di impegno e di speranza, di forza e di determinazione, di responsabilità e di rigore e vuole essere un modo per serrare le fila della cooperazione nella nostra regione. Vuole mettere a disposizione di tutta la società le energie, le intelligenze dei nostri giovani, delle nostre donne e dei nostri soci. Siamo tutti attori di questo cambiamento, dobbiamo rimboccarci le maniche e noi lo abbiamo e lo stiamo già facendo, per costruire e ricostruire paradigmi e modalità diverse. La cooperazione c'è, ma non a scapito della nostra dignità. Grazie. Molto bene Michela, assumi di nuovo la tua ruolo di Presidente dell'Assemblea, dando la parola a chi segue. Adesso proseguiamo con gli altri relatori. Alberto Alberani, sul grande valore della cooperazione sociale. A seguire Barbara Lepri, congiuntamente con Loredano Ferrari, sociali abitanti, progetti di filiera per un nuovo welfare. Seguire Roberto Lippi e Federica Bordone, rigenerazione, coesione, comunità, il collante e la cultura.